Questa sera, Balena Rodriguez, questo pomeriggio, direttamente dalla famosissima Scala di Milano, anche con la sottoscala incluso, una premia internazionale, da una delle più celebri aree dell'opera lirica, la carne di Bizet, una banera che vi lascerà senza parole. Per voi la grande e unica Balena Rodriguez! Maestrım! Grazie a tutti! 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 la metti qua, non è tutto quel grasso che avvolge questo delicissimo corpiccio, ma sono quei 180 kg di talento, io lo dico da sempre, da un piccolo paesino sperduto in mezzo alle montagne, sei strecchietosa. La giuria dovrà decidere se farti sedere e una volta mettiti qua, mettiti qua, ok? Da tempo ho preso la penna che mi ha regalato Barbara D'Urso termine. E allora, spostiamoci un pochino, no, di qua, balena, sposta così almeno teniamo il palco ben recuperato, ok? Adesso il problema è che se la giuria dovesse decidere di farti sedere, una di quelle tre, se tutte, si ribaltava. Vedete, è da questo momento che ho detto prepariamoci a qualcosa di incredibile. Scopriamo cosa è deciso la giuria. e allora adesso, lo so, lo so, difficile, allora la giuria sta guardando le tre sedute che vedo che sorridono con molte giochi. Se la giocano tutti allora, vedete? Ok, mi hanno fatto il nome, adesso nel video vedremo, no, sempre lì, balena, decidi dove sta. So che quando vieni ai nostri spettacoli sei obbligato a fare tante curve, un pochino, perché dobbiamo dare, ok, dobbiamo vedere, adesso è più difficile, chi ha deciso di far alzare la giuria per cedere la sedia a balena. Si alza dalla sedia, Morgana Cosmica! Applausi 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 Grazie.